Allora, il menù di Bottura, ragazzi, allora, come molti di voi sapranno, io e Agnese siamo andati da Bottura. Chi è Bottura? Bottura è il proprietario dell'Osteria Francescana, è lo chef, il proprietario dell'Osteria Francescana. Uno dei ristoranti migliori del mondo. Tre stelle Michelin è stato per due anni il ristorante migliore del mondo e siamo andati, appunto, per la prima volta da lui. Era da tanto tempo che ci volevamo andare, perché io conoscevo, ho conosciuto Bottura grazie a Piff, con la puntata del testimone straordinaria che ha fatto insieme a lui. Mi è sembrato subito una persona in gamba, al pezzo, è anche molto romantico. Ho detto, questo è un personaggio da seguire, e da quel giorno l'ho seguito. Molti l'avranno conosciuto grazie a Chef Table su Netflix, però io l'avevo già conosciuto ai tempi di Piff. Va bene, Agnese, vabbè, facciamo una scommessa sui miei peli del cazzo. Molti di voi la conoscono, non so, spero che i dipendenti di Bottura non vedano questa fributtata, anche se sono sicuro che la vedranno per una ragione che vi spiego, però, magari più avanti. Io mi faccio i peli del cazzo sull'asciugamano, che io utilizzo, quindi... Però era un asciugamano messo in un altro cassetto, quindi non era l'asciugamano che stavi immediatamente utilizzando. Era un asciugamano che avresti utilizzato, e l'ho preso per rasarmi i peli del pub e delle palle. Ma sono molto diretto, voglio essere schietto con voi, sincero. Asciugamano, iniziano a cadere questi ciuffoni, insomma, belli folti, delle belle foreste, insomma, il classico bush, no? Appunto, il cespuglione. Bush, sì. Sì, sì, il classico bush, che andavano così a fiotti, cadevano, no? Come neve d'inverno a dicembre durante una notte natalizia. Neri, però. Neri, come la pesce. Neri proprio, crespi, i peli di un cinghiale. Le setole. Le setole cadevano. Basta! Va bene, basta. Mi piace essere lirico con la mia peluria. Fatto sta che questi peli iniziano a cadere su questo asciugamano, e si iniziano ad annidare nelle maglie dell'asciugamano. La cara Agnese, nonostante io abbia buttato via tutti questi ciuffi di setole nel cestino e abbia scosso ripetutamente, assolutamente non nel giardino dei vicini qui sotto, ma in un altro luogo, i peli, insomma, mi sono accertato che non ci fosse niente infilato all'interno delle maglie di questo asciugamano, Agnese nota che mi sono fatto i peli nell'asciugamano. Ti fai dei peli, fai dei peli, questo lo uso io per asciugarmi, i peli del cazzo in faccia. Ho detto, guarda, no, peli del cazzo in faccia no. Allora, facciamo una scommessa. Se trovi un singolo pelo, io ti porto da bottura e pago io. Ne ha trovati cinque, così. Le ha trovati, ok, non si sa, vabbè, facciamo bottura lo stesso. Però, ovviamente, ero tranquillo, perché per prenotare da bottura, soprattutto ora che è riaperto, post-covid, ho detto, di sicuro si va al 2023. Agnese, eravamo a Lucca, col Masella, Giulia, abbiamo fatto una... C'era anche free wifi, insomma, abbiamo fatto un'uscitina così, a coppie. A un certo punto, Agnese, per curiosità, guarda il menù sul cellulare di bottura, dell'Osteria Francescana, e prova a prenotare. Ora prenoto, ora prenoto, ho detto, sì, sì, vai, vai. E lei fa, eh, boh, gli unici posti sono tipo a dicembre, quando era... No, no, a gennaio, dove erano progetti. A gennaio 2022, ho detto, vai, vabbè, prenota, se vuoi prenotare tanto a gennaio, c'è da ridirlo, a un certo punto fa, oh, c'è una coppia che ha disdetto, la prossima settimana, si va? Io faccio, ma come la prossima settimana? La bottura, no, è impossibile. Vabbè, prenota, ha prenotato, e per il martedì successivo? Sì, sì, era una settimana dopo. Per una settimana dopo, per il... ok. Bottura, tre stelle Michelin, ristorante leggendario, tutti tremano a sentirlo pronunciare. Io, vestito così, no, con la maglietta di artone animati, Agnese si piccina, e si va da bottura. Due ore, tra l'altro, a casa nostra, quindi anche comodissimo, perché, insomma, Modena, Ponte d'Era, sono due ore, ottimo. Parte l'avventura a bottura. Io dormo pochissimo, dormo cinque ore, perché bisognava svegliarsi alle dieci. Alle dieci. Bisognava essere lì a mezzogiorno, puntuali, anche perché sennò paghi la penale, se disdisci o arrivi in ritardo di... Quanto? Eh, non ricordo. 200 euro, 300 euro, una cosa del genere. Comunque paghi la penale, perché, giustamente, lui perde un coperto da chissà quanti soldi, e quindi paghi la penale. Quindi tutti agitati. Io mi alzo, dopo cinque ore di sonno, un po' rincogionito, ma comunque molto, molto, molto eccitato dalla cosa, perché comunque stiamo parlando di uno dei templi della gastronomia del mondo. Arriviamo lì, noi cerchiamo anche di non pensarci molto, perché vi assicuro, ragazzi, la sentite la pressione di una cosa del genere. Arriviamo a Modena, parcheggiamo lì vicino, e recupero un'ora di sonno, faccio guidare per un'ora Agnese, così ero bello in forma, effettivamente ero bello in forma, e arriviamo davanti a quest'ingresso. L'ingresso di bottura è una cosa eccezionale, perché è una cosa molto, come si vuole, molto minimal, cioè... Però è molto elegante, chic. Elegante, però allo stesso tempo non è barocca, cioè è minimalissima. C'è una porta, sembra di acciaio, comunque un materiale opaco, c'è un colore opaco, una targhetta di questa dimensione che ho scritto Osteria Francescana, e poi sulla sinistra c'è altri due targhe, probabilmente sono dei premi. Entriamo, arrivano tre camerieri, così, subito. Io me ne ho messo l'unico paio di pantaloni eleganti che ho, e una camicia, e poi le scarpe eleganti. Io ho due paia di scarpe. Le Air Force, dove siamo? Air One, Air Force, da Nike, per la strada, e poi le scarpe eleganti per le grandi occasioni. Basta, sono come un contadino, praticamente. C'è qualcosa così. Benvenuti, signori. Io subito... Ok. Ciao. Ciao. Avevamo provatato... Sì, a che nome, prego, signori? Agnese Innocente. Se abbiano la cortesia di seguirci, la portiamo subito al vostro tavolo. 45 erano camerieri. Per tutto il corridoio c'erano 40 camerieri. C'erano un esercito di camerieri. Sembrava di entrare in Hostess Club in Yakuza, no? Quando si inchinano tutte, uguali. Poi opere d'arte ovunque. Io subito agitatissimo. La moquette... Contemporanea, poi. Sì, sì, molto contemporanea. Lui è fissato. C'erano due sale, gestite da vari camerieri. E poi c'era il sommelier che girava per le due sale. Saranno stati 40 coperti, forse. Hai un tavolino con un cameriere dedicato a te, a volte anche più di uno. 2 o 3. Che ti versano l'acqua, eh. E poi l'apparecchiatura super minimal. Sì, l'argenteria, ma era consumate quasi. Era tutto molto... Tutto molto minimal, di design, anche piatti, eccetera. Però fighissimo. Arrivano... Signora, prego, si sieda. Oh, venga, prego, eh. Gradisce un'acqua gassata, un'acqua naturale per iniziare. E facciamo l'acqua. Poi a un certo punto arriva una domanda che mi trae subito in inganno. I signori vogliono iniziare con un aperitivo? Certo. E noi... Per forza! Convinti che... Tocca! Convinti che fosse offerto, no? Perché comunque... Cioè, se fa... Non si di solito offerto. Un Franciacorta o uno champagne? Un crystal, per iniziare? Noi... 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 Non ho mai bevuto lo champagne in vita mia. E noi... 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 Ovviamente... Di fingere di essere... Però vi assicuro che quando è arrivato e ha fatto... I signori gradiscono l'aperitivo ho fatto... Per forza! Allora, lui è arrivato con due calici champagne Però ne parliamo dopo Li lasciamo lì Li beviamo A me piaceva Era buono Però non sapevo apprezzare il gusto Le bollicine che salivano da... Esatto Come De Sica, no? Una bollicina Grazie, bella sei Una bollicina Grazie, bella sei Una cosa così Arrivano i camerieri E inizia questo menù Ovviamente prendiamo il menù degustazione Che non era quello di cosa... Cosa mangiamo oggi Ma era una cosa nuova Ha fatto un menù Basato sulle ricette Dei suoi chef amici Reinterpretate alla follia E... A little help from my friend Sì, questo era il nome del menù E... Intorno a noi Tra l'altro segno Fantastico C'erano opere di Murakami Lui è molto fissato col Giappone Anche se lui dice che è fissato Io sono fissato con le cose belle E quindi avevamo un set di piatti Decorati dal fiore di Murakami Firmati addirittura da lui Tutti diversi Era un set completo E noi avevamo questi piatti intorno a noi Quindi anche bello Perché sembrava quasi un segno Abbiamo questi camerieri Sempre eccellenti L'unico un pochino più... Eh, tutti giovanissimi Dai 20 ai 22 anni Tutti Poi super educati Super precisi Nella spiegazione Insomma E iniziamo con questo menù Volevo essere fritto Che a me lo hanno personalizzato Sì, perché lei non poteva mangiare latticini Per via, insomma, delle cure E allora gli hanno fatto un menù Stampato apposta per lei E tutto costruito su di lei Si erano educati ragazzi Ma... Poi vi spiego È quell'educazione stranissima Quando servivano i piatti È quasi normale Però dobbiamo arrivare al dopo Per capire perché l'ho trovata Particolare Bella Però allo stesso tempo Strana Fascinante Però non c'è Vediamo Vediamo dopo Volevo essere fritto Volevo essere fritto E il piatto con il gambero Disegnato sul... Ah, sì E il cannolo fritto Con dentro il gambero crudo E la burrata Sì, sì, sì Era... Vabbè Ragazzi, allora Partiamo dal presupposto Senza la burrata Senza la burrata Eccetera Allora Fate conto ragazzi Che... Io ho le foto di tutti i piatti Comunque Ok Mandamelo un attimo su whatsapp Che le faccio vedere tramite lì Insieme al Volevo essere fritto E a questo affare E basta C'era la minestra di pane Che praticamente Era una sorta di sciottino Che si ispirava Alle zuppe giapponesi Però basata sulla minestra di pane Di Fabio Picchi Che aveva fatto Sta minestra di pane Che è tipica toscana Però l'aveva fluidificata In uno shot Quindi in un brodo Ragazzi Io vi assicuro È impossibile descrivere Il sapore di quel brodo lì Impossibile Era un gusto Che ti scaldava Completamente Dalla testa ai piedi C'era una punta d'olio Però allo stesso tempo Sentivi il pane Allo stesso tempo Era un brodo saporitissimo Ti scoppiavano le pupille gustative Eh ragazzi Io se Io Non c'era una parte soglia Era proprio tutto brodo Era tutto brodo Mi ha trattenuto la vergogna Perché se no Gli avrei chiesto un quintale Sì Le papille Ho detto pupille Scusate Le papille gustative Scusate ragazzi Era ragazzi Una cosa veramente Eccezionale Questa invece È una cipolla fondente Sfoia di parmigiano Cipolla salsa e vermut Allora ragazzi Questo è Pane fritto con la cipolla Il pane o la cipolla Reinterpretato Cioè reinterpretato Rivisto Io però Boh Non era Era pane però Tipo di pasta sfoglia Croccante Io non ho Impossibile classificarlo Cioè Allora a parte che quando Lo divideva col coltello Ci aveva Come si può dire Una sonorità Nello spaccarlo Nel tagliarlo Nel tagliarlo Unica Sembrava veramente Di spiaccicare il pane Appena sfornato Come i ratatouille Quando ascoltano il rumore Del pane E poi quando lo mettevi in bocca Ti esplodeva subito Questa cipolla E queste erbe aromatiche Che però Frenavano il gusto Della cipolla Quindi era Un connubio perfetto Sentivi l'olio Sentivi queste erbe Che ci avevano impastato Tutto questo pane E poi soprattutto La cipolla Ma senza lasciarti in bocca Quel sapore Classico Della cipolla Che impesti Con cui impesti Di altri Quando parli Ecco Insalata di spaghetti Al caviale Questa era Reinterpretata in maniera Completamente folle Praticamente Invece di fare L'insalata di spaghetti Cosa ha fatto Che bello Bello esteticamente È straordinario Sembra un quadro Sì 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 Praticamente Sono spaghetti Fatti con Julienne di verdure Quindi non sono Proprio spaghetti È una simulazione Dello spaghetto Però fatta appunto Con le julienne di verdure Io questo piatto Ragazzi Non l'avremmo mangiato In vita mia Esatto E sopra c'è il caviale Ovviamente Ti sei spaventato Io mi sono spaventato Perché questo è il mio Everest L'ho messo in bocca Stavo per morire Cioè stavo proprio No perché sotto C'erano anche le seppie Oltretutto Ah c'erano anche le seppie crude Che a me non piacciono No ragazzi Cioè ogni forchettata Perché ogni Poi ogni tipo di julienne È diversa Quindi ogni forchettata Cambiava il gusto Sì A seconda di dove Lo prendevate Cioè una cosa Boh Io non avevo mai mangiato Il caviale in vita mia Nemmeno io Era la prima volta E minchia Se mi è piaciuto Poi ah questo c'era Morito lo riordi Questo Allora questi sono tortellini Questo Però cosa ha fatto Bottura Invece di riempirli Con la mortadella Ha fatto sì Che la mortadella Fosse l'involucro Quindi questi sono tortellini Con un involucro Di mortadella All'interno c'è la capa santa Sì ho capito Sono tre ragazzi Ma sono state tipo 15 portate 16 portate Io sono arrivato in fondo Che mi scoppiava la pancia Ero gonfissima Ora poi vi spieghiamo Anche questa cosa qua Sono tre È vero È un menù degustazione Però insomma Erano tortellini Appunto di mortadella Te All'inizio senti la mortadella E poi ti scoppia in bocca La capa santa E sotto c'era questa Vellutata di finocchio Buonissimo Buonissimo anche quella Tra l'altro Cosa precisissima Sotto i tre Tortellini C'era un cetriolino Minuscolo Su cui il tortellino Poggiava In maniera perfetta Quindi ti avevi queste tre Barchette Di finocchio Che sorreggono I tetto e tellini In maniera precisissima Vabbè Che poi non so come Come era fatto Quel pezzettino Perché era molto Acido E quindi Creava questo contrasto Con la vellutata sotto A me piaceva un casino Ah ma ora Ma noi c'è Una delle osse Per cui ti ho visto Andare proprio fuori di testa Era lei La melanzana Il controfiletto È questo? Sì Allora Questo si chiama Controfiletto Lezzano Domenico Anche qua Bottura ci incasina Perché non è un controfiletto vero È un inganno È una melanzana Cotta È trattata come Un controfiletto E c'è sopra La glassa fumée E la salsa alle erbe Oh raga La melanzana più buona Abbiamo mangiato In vita mia Profumava tantissimo Di affumicato Cioè appena è arrivata Mi ricordo questo odore Di affumicato Fortissimo È la melanzana più Gustosa Che io abbiamo mangiato In vita mia Anche qua Il gradino difficile per te Perché c'era la lingua Sì E invece poi E invece poi era buona Allora c'è dentro Brodo e parmigiano Lingua Spugnole Taccole Asparagi E fondo di funghi Allora questa ragazzi era Come si vuole Di una sorta di zuppa Di zuppa con la lingua Buonissima Anche questa Niente da dire Era stra buona Più che altro La particolarità dei piatti Di questi piatti Era che Contenevano Un sacco di ingredienti E consistenze diverse Cioè quindi Quando te Prendevi una cucchiaiata O una forchettata Sentivi Un sacco di diverse Consistenze Tipo qua c'era La spugnosità Sotto E sopra c'era La lingua Che era un po' più dura Questa invece È la faraona Alla creta E risotto Alla bergese Faraona ripiena Di pane Di pane Frattaglie Il confinale Me l'ha dato Un'altra cosa Cos'è che ti ha dato Il confinale Ed è gelato Amore No grissini Ragazzi Finalmente abbiamo provato Che cazzo di grissini Clamorosi Erano veramente buoni Come me le aspettavo Due prezze Per ricordare Grissini Questo è il germano Ripieno di anguilla Questo era il piatto Più forte Dal sapore più forte Più deciso Di tutti C'era l'anguilla La pelle croccante L'anguilla Spina Cirafano Marasche Aceto balsamico Villa Manadori Era fortissimo Sia per le marasche Che per l'aceto balsamico Soprattutto per le marasche Questo è il budino Di cipolla È un budino di cipolle Tipo cram caramel Di cipolle E io gli ho fatto Ma questo Cioè è una sorta di Ponte verso il dessert E lui mi ha detto Il cameriere Beh sai Per massimo Non esistono i dessert Lui mette un po' di tutto All'interno della ricetta Infatti questo è un budino Quando lo mangiate C'è la consistenza È il budino Quel dolcino del budino È dolce effettivamente Questa roba C'è un'ostia sopra No una meringa sopra Però Quella nota Leggera Leggera di cipolla Ce la sentite Eppure è buonissimo Veramente bello Questo mi è piaciuto tantissimo È buono buono Uno dei miei preferiti Poi col piatto spaccato E la spaccatura sopra Veramente bello Allora ragazzi Questa è una delle cose Più buone Che io abbia mai mangiato Nella mia esistenza Dopo il brodo Questo e il brodo Sono stati due piatti Che mi sono rimasti impressi E non se ne andranno mai più Della mia testa Qui tenetevi forte Cari amici romani Perché avrete Un infarto Questa è La ricetta Di Vissani Ovvero La zuppa fredda Di carbonara Lui cosa ha fatto Ha fatto una carbonara Gelato Questo è un cono gelato Che simula Cioè diciamo Che sembra che si sia Spiaccicato a terra Ed è il gelato Alla carbonara Con dentro i pezzi Di pancette E di guanciale Scusate Stavo per dire un'eresia Il gelato è al pecorino E il cono È fatto con le bucce Arrostite Della banana Perché Bottura Quando era ancora Un giovincello Gli mancava in cucina Il guanciale E ha ingannato il cliente Mettendo dentro Una carbonara Delle bucce di banana Arrostite Per simulare Il sapore Del guanciale E ce l'ha fatta Ha ingannato il cliente E quindi ha citato Questa cosa E il cameriere Mi ha fatto E come in ogni cono Ovviamente All'interno C'è una piccola sorpresa Che nessuno Si sarebbe mai aspettato Io ho mangiato il cono E dentro c'era il caviale Quindi Allora ragazzi Questa cosa qui Sembrava una nostra La Willy Wonka Cioè Ho assaggiato il gelato E mi sembrava un gelato Alla crema È normale Ma era il pecorino Sì 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 Però per il primo secondo A un certo punto poi Dopo il primo secondo Ho detto Ho gelato la crema Il mio cervello Ha istantaneamente percepito Una forchettata Di carbonara In bocca Istantaneamente È come Appunto Il chewing gum Di Willy Wonka Che c'è un pasto Completo all'interno Di una gomma Identico Te Lecchi il gelato Senti il gelato La crema normale Per un secondo E poi i tuoi riscettori Beccano subito la carbonara E sembra veramente Di mettere Una forchettata Di carbonara in bocca Impressionante ragazzi Mai sentita Una roba del genere È buonissima È una cosa Veramente quasi Che arrivi quasi La commozione Ma non sto esagerando Poi io purtroppo Questo non l'ho potuto mangiare Ti hai mangiato questo Perché c'erano i latticini Allora mi hanno fatto Questa variazione Cioè hanno variato Proprio completamente piatto Il mio Invece era proprio Un dolce Ed era bellissimo Questo era bello La pallina Questo era proprio bello Esteticamente non si può dire Niente cos'era Una sorta tipo di budino Al cioccolato C'è questo sapore fortissimo Di cioccolato Sopra c'era un crumble Di ciliegie Marasche Sempre Questa specie di gelato Sorbetto Sempre le ciliegie E c'è questa ciliegia Che però non è ovviamente Una ciliegia Una pallina Sempre di cioccolato Con all'interno Una sorta di Tipo Il liquore Sempre alle Sì tipo Dei moscherich Che ti scoppia in bocca Però ovviamente Non c'è niente a che vedere Col moscherich Questo raga Cioè Era alla fine Ma non era un dolce Cioè il dolce Era dato alla zucca Perché è un risotto Alla zucca Con Mandorle tostate Sopra E Cosa c'era Il fondo di cottura Del germano Sì Fissati con il germano Da bottura Io Arrivata qua Ero veramente piena Qui eravamo Abbastanza pieni E questa è stata La nostra ultima botta Perché ci hanno dato Questa piccola pasticceria Questo era il tuo però Col gelè Sì E questo è un Tipo un macaron Con la foglia d'oro Questo è un cannolo Alla siciliana Vabbè Era reinterpretato ovviamente Questa è una gelè E a me ha dato A me ha servito Una micro Lepre nel bosco Che è Un dolce Col cioccolato fondente Però all'interno Si nasconde La lepre Ragazzi E anche lì Ragazzi sono abbinamenti Folli ma Incredibili Non c'è verso Io ovviamente Chiamo il cameriere Faccio la smargiassata Però fuori il menù Vorrei ordinare Un'altra pietanza Ah davvero Allora cerchiamo Di inserirla in menù Per amalgamarla bene E ho preso Ops Mi è caduta la crostata Cioè quella che abbiamo visto Insieme La crostata Caduta Che ovviamente Lui ricostruisce Come se fosse caduta A terra per davvero Era molto buona Ma devo dire la verità Di tutti i piatti Che ho assaggiato Quello è quello Che mi è piaciuto meno Era più classico Era più classico Sì 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 Però andava a provare Leggenda L'ho provata Ma l'ho fatto la foto eh È fatta sì Eccola qua Ah è vero sì Eccola qua Caffè No 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 aspetta Arriviamo Alla cosa che vi ho nascosto A un certo punto Avevamo sempre I nostri due camerieri Che ci illustravano Tutte le cose A un certo punto Arriva un nuovo ragazzo Mai visto Ma a tre quarti Del pranzo Arriva Ci illustra il piatto Anche lui Un chirurgo Preciso Perfetto E fa Scusate Se interrompo La vostra degustazione Dimmi Posso intervenire? Volevo dire una cosa Io sono Un grande ammiratore Ed è qui Che arriviamo Al punto C'era un fratello Ovviamente Infiltrato dentro Bottura Esatto Un fratello Era un fratello Ma la cosa che mi ha colpito E qua arriviamo All'educazione È che Lui Ha Parlato con me Come voi parlate sempre Con me Alle fiere A Luca Cioè utilizzava Lo stesso modus operandi Ciao Dario Ti seguo sempre Su Twitch Non riesco proprio a seguire Tutte le live Eccetera Però utilizzava Il linguaggio botturiano Cioè Da servizio di botture Quindi era tutto confuso Era È stato strano È stato strano Perché Scusate se interrompo La vostra degustazione Uguale Bello Dario Oh ti rompo il cazzo Questa è la prima Seconda Sono un grande ammiratore Boh ti seguo sempre Boh A far schiantà Da ride Sono un fan Era uguale Cioè è lo stesso modus Operandi Però con la voce Bassissima E con altre terminologie Purtroppo Lavorando molto In questo posto Abbiamo poco tempo Per pensare a Twitch Ma grazie agli amici Freebooter Posso recuperare Sempre i tuoi contenuti Io ragazzi Non sto scherzando Che grande Uguale Ma con quel Con quel tono Educatissimo Una leggenda Era anche emozionato Era emozionatissimo Tremava Era come voi Uguale Che poi Io non capisco perché tremate Quando mi beccate Perché Probabilmente parlo del cazzo Delle sborre I peli E avete paura Cioè Bello Ci si fa una birra Finisce il pranzo Arriva Bottura Finisce il pranzo Pranzo una sega Siamo entrati Alle mezzogiorno e mezzo Siamo usciti alle 5 Quindi un pranzo Lunghissimo Eravamo stremati Io poi avevo preso Anche la crostata Quindi era proprio pieno Pieno Arriva Bottura Parla con tutti noi Parla anche con noi Io provo a chiedere un'intervista Mi dice di mandare una mail Quindi non so Se andrà in porto Speriamo che lui dice Non accetta molte C'erano queste due ragazze Che palesemente Ci stavano provando con lui No una sola Una una Lo toccava Posso toccarti Posso abbracciarti Poi a un certo punto fa Però sai Chef Table non rende E lui fa Perché Perché sei molto più figo dal vivo E lui Intanto si allontanava Perché è sposatissimo Poi A quanto ho capito È anche molto religioso Quindi sarà che Secondo me è che stava proprio cringiando Stava cringiando Insomma una roba così E lei fa Sai perché mi piaci Perché Sei così umile Sei così umano Fa eh sì 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 Io esco insieme a Bottura Che intanto sarà cambiato È coincidenza Usciamo insieme Fa Oh mi dà il 5 così Grande eh Un grande Veramente Via Ora vado perché mi aspettano Per l'inaugurazione Del cavallino Io faccio il cavallino La Ferrari Entra in un Ferrari Bottura Ragazzi sarà stato grosso Quanto il mio appartamento Una cosa infinita Infinita Non so che Ferrari è Non mi intendo di macchine Ma era enorme E mi fa ridere Che c'era la tipa fa Sei così umile Sei così umano E miro Allo stesso momento C'ho le frasi di questa tipa E in quello stesso istante Passa Bottura Così che mi guarda E va verso L'inaugurazione Della Ferrari Non so di un menù Di una cosa A cui aveva collaborato Perfetto Poi figurati C'hai soldi Si è fatto un culo Si lavora È bravo Giusto che sia un prima Ferrari Però mi ha fatto ridere Questo paradosso Fa ridere Bottura E passa proprio La sciarpina A bordo di questo Ferrari Che era infinito Lui piccino Che guida Così umile Così umano E va Verso nuove avventure A Maranello Va bene Quindi questa è l'esperienza A un certo punto Torna il nostro fratello Fa Come è andato Come è andata La degustazione Tutto bene Sì sì Grazie Grazie mille Io Come al solito Quanti anni hai Vent'anni Vent'anni minchia Già lavori per Bottura Deve essere una soddisfazione È una soddisfazione Immensa Molto lavoro Ma anche tanto orgoglio E tanta soddisfazione Senti Se mi permetti Anche il pasticcere La segue Posso chiamarlo Per una piccola foto O è troppo disturbo Ma come Anche il pasticcere Di Bottura È un fratello Ma chiamalo subito Per forza Allora Va bene Allora posso chiamare Sì 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 Chiamalo Chiamalo Nel sicuro Sì ti ho detto Chiamalo Allora lui Si allontanava Indietreggiando Perché non mi volava dalle spalle Appena io mi sono girato Verso Agnese Lui si è subito girato E è schizzato Dentro la cucina Per chiamare Il mio fratello Pasticcere Arriva il pasticcere Ragazzi non sto scherzando Arriva il pasticcere Esce la cucina così Si puliva il grembiule No? Ma anche lui Mega giovanissimo Sì sì Anche lui giovanissimo Dario Ciao Dario M'hanno detto Un cucina Che c'eri Eh E allora Abbiamo fatto la foto Aspetta che ve la faccio vedere Questi sono i fratelli Dell'osteria francescana Alta Devo dire Sì 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 Guardate come ero vestito io Sembro Benigni In Berlinguer Ti voglio bene Guarda che cazzo di colori C'era Camicia azzurra E pantaloni blu Guarda come ero fiero ragazzi Ero super fiero Guardate le scarpe Eh Questo è un abbinamento Sono sempre sbiadite Erano marroni Ora sono grigi È perché ci avranno ormai due o tre anni Boni eh Aspetta cerco la foto Del nostro Del nostro padre Eccolo Guarda belli Con Murakami dietro Grande Vottura Esteta Agnese con le scarpette La prima cugnone Per forza Ma quindi alla fine Quanto è pagato Non mi ricordo Quanto tra tutto 600 e rotti Non mi ricordo Quanto? 675 675 Due menu degustazione 290 a chiorba 30 euro a testa di champagne Ops mi è caduta la crostata 60 E il caffè Coperto e caffè 10 euro E via Va fatto Secondo me è un'esperienza Importantissima Cioè lo dico con la massima sincerità Va bene La trattoria romana Che c'ha ovviamente Tutti gli altri vantaggi Come ad esempio Il prezzo Ovviamente Un'altra Un'altra atmosfera Il paninaro C'ha altre C'ha altre qualità E tutto Ma Fare un'esperienza Da bottura È un'esperienza Che non vi dimenticherete mai E 290 euro Per Quanto? 15 portate? 16 portate? Era tantissimo L'esperienza Ingredienti assurdi I camerieri che ti coccano Una bottura che ti dà nozioni sui piatti Su come li ha costruiti Li ha concepiti Che viene a parlare tavolo per tavolo E non se ne va finché non ha parlato con tutti È veramente una cosa allucinante Ed è ripeto Un 3 stelle Michelin Ed è soprattutto Uno Dei ristoranti più famosi al mondo E che per due anni Certo e fanno fattura Per due anni Ha conquistato il titolo di miglior ristorante al mondo Quindi insomma Ragazzi ce l'abbiamo in casa Ce l'abbiamo a Modena Se avete Voglia Se siete fissati con la cucina Ma anche se non siete fissati Siete fissati col bello Vi prego Mettetevi i soldi da parte Fate questa esperienza quando potete Io sono stata veramente contenta Di averla fatta Ma poi posso dire una cosa Allora Da quando mi sono ammalata Diciamo che la mia visione Della vita E di tante cose È cambiata E se prima mi facevo problemi Magari A fare quello che volevo fare Quello che mi andava di fare A caso Così in un momento Ora No Se ho voglia di fare una cosa La faccio Grazie a tutti Grazie a tutti